Ciao a tutti, è possibile far innamorare con la magia e con i legamenti d'amore? Prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tremasco. Allora, quando parliamo di magia, di cosa parliamo? Parliamo di attività che avvengono, soprattutto a livello mentale, per creare una connessione energetica con un'altra persona e quindi andare ad influenzare, diciamo così, il campo, se vogliamo, energetico dell'altra persona. Diciamo che la magia è stata, e spesso viene, spesso distrattata, diciamo, dalla scienza ufficiale come un qualcosa di praticamente inutile, insomma, non vero, non reale. In realtà, possiamo dire che la quantistica, invece, secondo me sta rivalutando un po' questo concetto perché noi siamo fatti di energia e le nostre menti, i nostri pensieri, non si esauriscono nella nostra mente, ma sono delle forme di energia anch'esse che si muovono in questo campo in cui ci troviamo, possiamo definire il campo morfogenetico, e si muovono, diciamo, istantaneamente, al di là del tempo e dello spazio, secondo, appunto, ad esempio, il concetto di entanglement. E questo, entanglement quantistico, questo fa sì che noi, se impariamo a direzionare un'intenzione pura, libera da ogni, diciamo, negatività o controintenzione, perché spesso dentro di noi ci sono delle intenzioni che albergano, che contrastano la nostra idea, la nostra intenzione cosciente, diciamo così. Per cui, spesso, ad esempio, le persone si rivolgono al mago perché il mago non ha, come dire, attaccamento al risultato, ma la motivazione della persona è comunque indispensabile. Se noi riusciamo a canalizzare fortemente le nostre intenzioni, utilizzando anche dei rituali, perché la magia utilizza degli elementi della vita quotidiana, della materia, per trasformare la materia stessa. Quindi il rituale, che può essere la candela, la ciocca di capelli, la fotografia, che viene trattata in un certo modo, oppure elementi ambientali, come ad esempio la luna piena, favoriscono, diciamo così, la trasmissione di questa intenzione. La trasmissione di questa intenzione, che se è un'intenzione d'amore, comunque verso l'altra persona, per creare un legamento, ma basato sull'amore, non ha risvolti carnici negativi, perché nel senso che tu non stai augurando o direzionando intenzioni negative verso qualcuno. L'importante è che non ci sia questo, altrimenti rischi veramente di, come dire, avere dei ritorni carnici, pure in questa vita, pesantissimi. E' ovvio che più la tua intenzione è pura, più non ci sono retro pensieri, tra virgolette, profondi, ostacolanti, più riuscirai a canalizzare e a creare un contatto, un entanglement con questa persona, anche a distanza, perché l'entanglement avviene al di là dello spazio del tempo, e quindi, diciamo così, creerai una sorta di familiarità energetica, per cui avverranno probabilmente delle coincidenze significative, per cui ci saranno degli incontri, ci saranno dei legami, dei legamenti, insomma, con questa persona, dei legamenti anche profondi a livello energetico. E questo cosa comporta? Comporta che si instaurerà più facilmente un rapporto, una relazione basata sull'amore. La cosa importante è, ripeto, avere un'intenzione positiva e sapere quello che si fa. Quindi non esiste ovviamente una certezza come il principio di indeterminazione esiste in tutte le cose, nella nostra vita il principio di indeterminazione è la base. Però abbiamo la possibilità di poter influire, diciamo così, sul corso degli eventi attraverso la nostra intenzione. Questi sono tutti atti magici che noi possiamo mettere in atto, che vanno a influenzare anche i comportamenti, ovviamente. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale, iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere, di qui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!